Sesta puntata di Ciao Darwin 3, una puntata tutta al femminile che venne trasmessa il 4 novembre dell'anno 2000 su canale 5, condotta come sempre da Paolo Bonolis. Si sfidarono donne, donne non fu quindi una sfida mista o di soli uomini ma solo le donne si sfidarono, in particolare si sfidarono le donne belle contro le donne brutte. A capitanare la categoria delle donne belle c'era la simpatica Samantha de René, a capitanare la categoria delle brutte c'era la simpaticissima Anna Massamaulo, la famosa attrice italiana che vi ricordo ha partecipato a molteplici film a molteplici pellicole con la presenza di Paolo Villaggio alias Lugo Pantozzi. Bene, tra le due categorie sociali in questione che si sfidarono nel 4 di novembre dell'anno 2000, vinsero le brutte ai danni delle belle. Una sfida molto piacevole e piena di simpatia soprattutto per quanto riguarda la categoria delle brutte, che ricordo un'altra volta era capiterata da Anna Massa Mauro e, per così dire, soprattutto nella sfida della macchina del tempo, l'allegria e il brio ci furono elargiti con grande e totale competenza da un grande Paolo Bonolis. Grazie utenti. Grazie. Grazie.